Ciao a tutti! Oggi prepareremo le farfalle al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, pasta di tipo farfalle, salmone affumicato tagliato a pezzetti, panna da cucina bimbi, burro, brandy, sale, pepe, prezzemolo tritato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro e il salmone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il brandy ed azioniamo il bimbi per un minuto, 100 gradi, anti-orario, velocità soft senza misurino. Aggiungiamo la panna, un pizzico di sale, il pepe. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Mettere la salsa da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale mettiamo nel boccale l'acqua il sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e portiamo a bollizione per 7 minuti, 100 gradi, 100 gradi, velocità soft. Versiamo adesso la pasta. Mescoliamo un attimo con la spatola. Chiudiamo con il coperchio il misurino e cuociamo per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Scolare la pasta e condirla con la salsa al salmone. Spolverizziamo del prezzemolo tritato. farfalle al salmone. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.